Ah, bella ragazzi, bentornati sul canale di Granada Voglio anche un nickname E sono Xenic e tu chi sei? BAMBOLA95 Non sono nessuno Bella ragazzi, bentornati sul canale di Granada E questa è l'intro più scandalosa degli ultimi dieci anni di Youtube Vai così Sì, oggi siamo tornati qui con un episodio che so che vi è piaciuto abbastanza Un attimo che spengo le casse Pompà nelle casse, no vabbè, so che vi è piaciuto abbastanza vedere io che sclero a mia cugina Perché non è buona fare neanche una kill su COD Quindi, perché tutte e quattro le kill le ha fatte per merito mio Io sto guardando qua, ma in realtà devo guardare là Anche tu guarda là Sì, io stavo a guardare, gioca partita Pompà, stai guardando Vabbè, oggi saremo su FIFA Faremo un two player di svampate su FIFA Non ha mai giocato a FIFA in vita sua Non sono neanche nell'Inter ma l'ho messa solo per entrare nella parte Esatto, capito, per rimedesimarsi Una grinta Mamma mia, dagli così Ha trovato l'avversario Si è messa paura Guarda, quello è il mio intento Vai così Allora, fried chicken, tra l'altro ha fatto sette gol Quindi c'è probabilmente Mamma mia, quante pizze prenderemo Oddio, già che segna un gol Per me è tipo, ho vinto il mondiale Passa Oddio Passa Come si passa? Qua Vai Non passare Ma no No, no, non così Panico Non devi premere i tasti finché non te lo dico io Devi tenere premuto A Devi tenere premuto A Dio mio Guardate, guardate Devi correre Posso via il gol dopo tre minuti? Mamma mia, mamma mia Sta a salirvi l'ingia Devi premere questi tasti quando dico io Questi due solo devi premere Questi non li calcolare proprio E quando ci appalla lui Tieni premuto questo qua Ok Mamma mia A A di nuovo Ancora Vai, tranquilla Tranquilla Vai, ancora Ancora No No, B Porca Eva E che mi piace troppo Non fa niente Ora devi fare B Aspetta, aspetta Ora fai B Devi fare B Porca troia Avevamo segnato Avevamo segnato Tieni premuto A Tieni premuto A Oh, 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 oh Guardate A, A Brava Ok Ok, ah, di nuovo Ancora 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 Ah, fai Sto accettare Due tasti, eh Due tasti Cioè non è difficile Corri puttana Eva Corri Ci ha segnato pure adesso Devi correre Questo Tienilo sempre premuto Oddio Che palle Stava Basta 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 Cobi Cobi si tira Dentro l'aria Devi tirare Mamma mia Rezza Ah, ah, ah Devi premere Vai, premi subito Grande Ok Ancora No Ho sbagliato Ho sbagliato Spinto così No Hai tenuto premuto Non dire cazzate E poi guardi il video E non ho Devi essere attiva Dopo un po' Devi capire pure te Quando corri Come se non ci fosse un domani Che cazzo vuoi Entri scivolata Ma lo hai ammazzata No, basta, basta No, ci ho provato Sul serio Non posso piattere Guarda una pippa Cioè, cristo santo Guarda come sei casa Ma sei casa Il cazzo Porco Ma che A questo punto Diventa praticamente Non ho parole Sul serio Non ho parole Mamma mia Splendido Mamma mia E questo è stato il genio Voi provati Con collati Mamma mia Trotti in mezzo Suarez Mamma mia Che gol Che gol Suarez Eccolo E tre 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 Uno due di precisione Non è bello Oh, ancora Una palla Diamo per Vanderbarte Vanderbarte Se ne va Carica al sinistro Quattro A quattro Vanderbarte Che ti cerco Che ti cerco Che ti speravi Che io perdissi Hai fatto di tutto Per farli perdere Ecco cosa Guarda Balotelli Banane Vai Guarda E finita la partita Quattro a quattro È stato veramente Grande il contributo Di mio cugino Incredibile La prossima La prossima partita La metterò soltanto Su Probabilmente Non sui mondiali Però va benissimo Così Dove essere Tipo un two player Su one pad Che è finito In un one player One pad One skill Sono troppo forte Olè Menez Menez Ci faccio il cazzo Vabbè ragazzi Direi che Fa fallo dell'altro Ma Chiede di ciao Il video è finito Ci vediamo la prossima Sarà Un video tutto mio Giocherò solo io Poi ci sarà Cugino di campagna Ritorno Ah Dizio la spoiler Sì capito Anche Ciao Vabbè pure lui dovrà di qualcosa Dai grazie a me Noi se è tutto Bella Ciao